Ciao, sono Elena Padovese, istruttore di Spinning e Walking Program. Nel video precedente abbiamo imparato come impostare in maniera personalizzata il cardiofrequenzimetro e come interpretare i valori di frequenza cardiaca che questo strumento ti dà. Abbiamo fatto l'esempio specifico di un'attività di tipo aerobico, quindi 65-85% della frequenza cardiaca massima, quindi abbiamo imparato anche come sviluppare la nostra resistenza fisica. Oggi invece impareremo altri metodi più precisi e più specifici, utili alla persona più esperta e più allenata, sia per il calcolo della frequenza cardiaca massima, sia per la determinazione delle frequenze cardiache relative in funzione dell'obiettivo di allenamento. Metteremo a confronto queste varie metodologie per capirne le differenze e questa volta il confronto lo faremo andando a considerare un'attività, un'intensità di lavoro al 75% del massimale, che come abbiamo imparato nel video precedente, corrisponde ad un'attività di tipo moderato brucia grassi, quindi un lavoro che ti permette di bruciare gli eccessi e di conseguenza impareremo come dimagrire. Dal punto di vista dell'allenamento siamo diversi, perché c'è chi è più allenato, chi lo è un poco di meno, chi non lo è affatto, come il sedentario, e questo va ad influenzare molto la risposta cardiaca ad un determinato sforzo. E' per questo che la formula generale di Kenneth Cooper va benissimo per il principiante, per chi è all'inizio, però va a limitare poi l'atleta che è un poco più allenato, che è allenato. Adesso capiamo perché. Facendo dipendere unicamente il calcolo dall'età del soggetto, mette praticamente sullo stesso piano una persona allenata e una persona non allenata, che è un'approssimazione dovuta al fatto che non considera Kenneth Cooper il fattore che fa veramente la differenza, che è la frequenza cardiaca a riposo. La frequenza cardiaca a riposo è la frequenza cardiaca che tu hai alla mattina al risveglio prima di scendere dal letto, quindi in condizioni di riposo assoluto. Ed è un fattore molto importante perché ti indica non solo, e lo vedremo adesso, il tuo livello di allenamento, ma anche il tuo stato di salute. Mi spiego meglio. Tipicamente la frequenza cardiaca a riposo di una persona normale può variare tra i 60 e gli 80 battiti al minuto. Ora, più è bassa e più si abbassa questo valore di frequenza cardiaca a riposo, più significa che quella persona è allenata. Può andare anche al di sotto dei 60 battiti al minuto, il che significa che una persona è molto allenata. Al contrario, una variazione anche del 10% tra un giorno e l'altro di questa misura della frequenza cardiaca a riposo può indicare o stanchezza, o uno stato di stress, o addirittura uno stato di sovrallenamento, e quindi è un campanello d'allarme che ti dice ehi, prenditi un giorno di riposo, oppure una malattia che si sta avvicinando. Quindi è un parametro molto importante che è bene prendere l'abitudine di misurarsi e anche di monitorare nel tempo per verificare i progressi oppure gli eccessi e quindi regolarsi di conseguenza. Come si misura allora questa frequenza cardiaca a riposo? È molto semplice. Basta che per cinque mattine consecutive ti misuri al polso oppure sfruttando anche lo stesso cardiofrequenzimetro la tua frequenza cardiaca a risveglio prima di scendere dal letto, quindi a riposo assoluto. Dopodiché fai la media matematica di questi cinque valori e ottieni quello che è il tuo valore personale, soggettivo di frequenza cardiaca a riposo. E questo valore a che cosa serve? Serve per applicare quello che è definito, quel noto come metodo di Karvonen. Karvonen, la formula di Karvonen ti permette di determinare in maniera più precisa rispetto a Cooper l'intensità, la frequenza cardiaca corrispondente ad una determinata intensità del lavoro in funzione di quello che tu vuoi ottenere durante un allenamento. L'espressione è più complessa ed include appunto l'inserimento di questo parametro importante che è soggettivo, dipende dal grado di allenamento, dipende dal stato di salute fisica del soggetto, dipende anche dal sesso, che è la frequenza cardiaca a riposo. Allora, secondo Karvonen, la frequenza cardiaca corrispondente ad una determinata intensità del lavoro è data dalla differenza di 220 meno l'età del soggetto, sempre spesso in anni, e questa la riconosci e la formula di Cooper, quindi corrisponde alla frequenza cardiaca massima, a cui però bisogna sottrarre la frequenza cardiaca a riposo. Di questa differenza, poiché è nota come frequenza cardiaca di riserva, bisogna calcolare poi la percentuale di lavoro desiderata per poi andare di nuovo a sommare la frequenza cardiaca a riposo. Questa formula è più precisa e adesso lo vedremo con un esempio pratico rispetto a Cooper perché vedremo come correga appunto la stima dell'intensità del lavoro per un soggetto allenato perché va a considerare questo parametro che è fondamentale. Allora, iniziamo a fare questo confronto e quindi prendiamo in considerazione tre soggetti di età diversa, 20 anni, 40 anni e 60 anni, in modo da considerare un range significativo e verificare veramente, capirne bene le differenze tra questi vari metodi. Andiamo allora a fare i vari calcoli. Allora, per quanto riguarda Cooper, abbiamo detto, Cooper dice che la frequenza cardiaca massima, che noi ci andiamo a calcolare per poi andare a stimare il 75% di intensità di lavoro per ogni soggetto d'età diversa, frequenza cardiaca massima è data da 220 meno l'età. Quindi 220 meno 20 fa 200 per il ventenne. 220 meno 40 fa 180 per il quarantenne e 160 per il sessantenne. Andiamo ora a determinare il 75% secondo Cooper di queste tre persone. Allora, il ventenne, il calcolo è semplice, l'abbiamo imparato nel video precedente, basta moltiplicare la frequenza cardiaca massima della persona di 20 anni per 0,75, cioè calcolo il 75% di 200 per 0,75 150. La stessa cosa la faccio nel caso del quarantenne e del sessantenne. Io qua ho già fatto i calcoli, avrò 135 battiti al minuto per un 75% per il soggetto di 40 anni e 120 battiti al minuto per un soggetto di 60 anni. Ora, cosa succede se io applico la metodologia, il metodo di Carvonen? Quindi vado a considerare anche la frequenza cardiaca a riposo e andiamo a calcolarci anche questi valori. Così capiamo bene che cosa cambia se noi inseriamo questo parametro soggettivo. Allora, per rendere omogeneo il calcolo faccio un'approssimazione, cioè dico indipendentemente dall'età considero una frequenza cardiaca a riposo di 60 battiti al minuto. È un'approssimazione che faccio per rendere omogeneo il calcolo. Allora, andiamo a stimare la frequenza cardiaca massima e poi il 75% per i tre soggetti applicando Carvonen. Carvonen lo applichiamo tale quale scritto qua, quindi andiamo a considerare la frequenza cardiaca massima espressa in termini della formula di Cooper. Poi vedremo come lo stesso calcolo si può applicare anche in maniera diversa. Allora, la frequenza cardiaca massima sarà data dalla formula di Cooper. Quindi mi riporto i valori che abbiamo appena calcolato insieme perché tu, anche tu con la calcolatrice puoi aiutarmi in questa esperienza. Quindi 200, 180, 160 per il ventenne, il quarantenne, il sessantenne. Cominciamo a fare a determinare, a stimare il 75% del lavoro di un ventenne che ha questa frequenza cardiaca massima applicando però questa volta Carvonen e considerando la frequenza cardiaca riposo. Allora, che cosa devo fare? Carvonen dice 220 meno l'età, quindi 200 per il ventenne, meno la frequenza cardiaca riposo che ho detto stimo a 60 battiti al minuto, quindi meno 60, differenza 140, frequenza cardiaca di riserva. E di questa poiché devo calcolarmi il 75%, quindi moltiplico come abbiamo fatto prima con Cooper per 0,75 e poi sommo di nuovo la frequenza cardiaca riposo più 60, 165. la stessa procedura la applico per il quarantenne e il sessantenne con la differenza che sostituisco ovviamente l'età diversa a questo livello della formula. Io ottengo in questo modo nel caso del quarantenne un valore di frequenza al 75% di nel caso del sessantenne 135 e a questo punto possiamo fare una prima considerazione perché è chiaro come Cooper a parità d'età vada a sottostimare anche in maniera abbastanza importante quella che dovrebbe essere l'intensità del lavoro al 75% in tutti e tre i casi. Quindi va a limitare una persona in qualche modo allenata perché una frequenza cardiaca di 60 battiti al minuto è una frequenza di una persona che è già abbastanza allenata. Quindi Cooper va bene per il principiante va bene per chi all'inizio però nel momento in cui si diventa più esperti e soprattutto più allenati è bene prendere l'abitudine di misurarsi la frequenza cardiaca al riposo e applicare Carbone che va bene per tutti perché Carbone va bene anche per il principiante l'importante è sapere la propria e misurarsi la propria frequenza cardiaca a riposo. Ti dirò ancora adesso ti dico impariamo ancora una piccola un piccolo passo in più una piccola correzione in più perché esiste anche un modo per determinare in maniera ancora più precisa rispetto a Cooper stesso il valore di frequenza cardiaca massima questo metodo è noto come formula di Tanaka dove Tanaka è uno studioso che ha preso in esame una serie di studi effettuati su soggetti di età diversa e di sesso diverso che sono stati sottoposti a prove di sforzo massimale monitorati dal punto di vista cardiaco ha elaborato statisticamente tutti questi dati raccolti nel corso degli anni e ha ottenuto una curva di regressione cioè una formula che esprime il valore di frequenza cardiaca massima che è ben diversa rispetto a Cooper adesso vediamo le differenze secondo Tanaka la frequenza cardiaca massima è data da 208 quindi un valore inferiore rispetto a Cooper a cui si sottrae il prodotto di 0,7 per l'età quindi il 70% dell'età il fatto di considerare il 70% dell'età va a ridurre a ridimensionare quell'errore che Cooper fa nella stima della frequenza cardiaca massima in particolar modo per soggetti maturi dopo lo vedremo anche graficamente quindi avremo la prova visiva di questa differenza delle varie stime delle varie metodologie quindi Tanaka corregge l'errore che Cooper fa in particolar modo per soggetti di età più matura allora per rendere completa tutta questa analisi che stiamo facendo insieme facciamo insieme anche il calcolo della frequenza cardiaca massima e del 75% del lavoro sfruttando Tanaka tale quale cioè così come sta allora secondo Tanaka la frequenza cardiaca massima è 208 meno 0,7 per l'età nel caso di un ventenne allora il calcolo che devo andare a fare è 208 meno aperta parentesi 0,7 per 20 chiusa parentesi uguale 194 eccoci qua la stessa lo stesso metodo lo applico anche per il quarantenne e per il sessantenne quello che ottengo è 180 per il quarantenne e 166 per il sessantenne vedi come anche se di poco ma i valori sono diversi quindi è chiara la correzione che Cooper fa nel caso in particolare di soggetti più maturi anche nel caso di soggetti più giovani nel caso invece di soggetti di 40 anni le due formule le due metodologie sono equivalenti quindi Tanaka non fa altro che correggere appunto l'errore di sottostima che Cooper fa in funzione dell'età andiamo a calcolarci ora il 75% rispetto al massimale per queste tre persone il calcolo è lo stesso che abbiamo fatto nel caso precedente quindi il 75% di 194 quindi 194 per 0,75 e risulta 145 battiti al minuto per il ventenne 135 per il quarantenne e 124 per il sessantenne l'effetto che abbiamo notato nel calcolo della frequenza cardiaca massima ce lo ritroviamo anche nel caso vedi la leggera correzione nel caso della frequenza cardiaca relativa al 75% dell'intensità come abbiamo calcolato applicato Carvonen inserendo la frequenza cardiaca massima espressa in termini di Kenneth Cooper la stessa cosa possiamo farla sostituendo questa porzione della formula con la frequenza cardiaca espressa attraverso la formula di Tanaka in questo modo in questo modo ci aspettiamo un ulteriore affinamento del calcolo dello stesso metodo di Carvonen proviamo a fare allora anche questo calcolo così abbiamo il quadro generale di tutta la situazione allora la frequenza cardiaca massima attraverso questa metodologia quindi con Carvonen considerando la frequenza cardiaca massima espressa come Tanaka sarà quella che abbiamo ottenuto qualche secondo fa attraverso il calcolo con Tanaka quindi riporto i valori per il ventenne per il quarantenne e per il sessantenne dopodiché il metodo di Carvonen si applica allo stesso modo come abbiamo fatto prima quindi lo calcolo un attimo nel caso del soggetto ventenne abbiamo quindi 208 meno 07 per l'età che sta al posto di questa porzione della formula e che noi ci siamo già calcolati come essere 194 a cui sottrago la frequenza cardiaca riposo ipotizziamo sempre i 60 battiti al minuto di questo poi mi calcolo il 75% quindi per 075 sempre uguale il calcolo e poi sommo di nuovo più 60 battiti al minuto che è la frequenza cardiaca riposo cosa ottengo 160 60 eccola qua nel caso del quarantenne e del sessantenne il metodo è sempre lo stesso si ottiene 150 per il quarantenne e 139 per il sessantenne eccoci qua allora andiamo ora a fare tutte le considerazioni del caso vedi che l'effetto di Tanaka si sente come ci si doveva aspettare anche inserendolo direttamente nella formula di Karvonen è un'ulteriore precisazione che si fa Karvonen comunque va bene sia nel caso in cui si consideri la frequenza cardiaca massima espressa in termini di Cooper sia nel caso in cui si voglia sostituire questa porzione dell'equazione con Tanaka perché Karvonen stesso è già una buona correzione apportata alla stima effettuata attraverso Cooper perché appunto si considera questo parametro che è molto importante frequenza cardiaca a riposo andiamo allora per aver chiaro e tondo veramente tutto tutto il quadro della situazione andiamo a riportarle anche graficamente queste curve così abbiamo anche una valutazione visiva allora Cooper abbiamo detto sottostima molto il lavoro l'intensità di lavoro e anche la frequenza cardiaca massima per tutte e tre l'età considerate quindi riportiamo graficamente i dati relativi al 75% del massimale Cooper si localizza abbiamo detto 150 120 quindi circa a questo livello a questa altezza del grafico andiamo ora a riportare invece i dati così facciamo una prima differenza dei due metodi principali andiamo a riportare i dati relativi a Tanaka Tanaka cosa fa? apporta una leggera correzione al calcolo della frequenza cardiaca massima che si ripercuote anche nel calcolo nella stima delle intensità relative abbiamo detto i due metodi sono equivalenti in corrispondenza dei 40 anni però poi Tanaka fa la differenza e corregge Cooper in particolare per età per soggetti di età più matura quindi le due curve si incroceranno a livello dei quarantenne con Tanaka che però ha una pendenza che è inferiore e va a correggere la sottostima di Cooper a questo livello andiamo ora a riportare anche i dati relativi al metodo di Carvonen che è quello che veramente interessa a noi perché è quello che è utile per il soggetto allenato abbiamo detto Carvonen lo riportiamo sia applicato con Cooper come metodo per determinare la frequenza cardiaca massima sia i dati dove abbiamo sostituito la formula di Tanaka a questo livello della formula di Carvonen allora nel primo caso l'andamento la pendenza sarà quella della dei dati relativi a Cooper però abbiamo detto non c'è più la sottostima di Cooper i dati si correggono e saliamo a questo livello quindi Carvonen corregge il tiro nel caso di un atleta di una persona allenata e quindi alza i valori stimati Tanaka l'effetto di Tanaka si sente per quella correzione che questo metodo apporta nel caso di soggetti maturi quindi concludendo brevemente che cosa come ci si comporta con queste varie metodologie io consiglio al principiante alla persona che inizia ad allenarsi di applicare il metodo di Cooper va benissimo questo quindi va bene impostare sul cardiofrequenzimetro una lettura di frequenza cardiaca anche in termini di percentuale rispetto al massimale perché il cardiofrequenzimetro applica questo metodo per la visualizzazione della percentuale di lavoro nel momento in cui però si comincia a diventare più esperti e soprattutto più allenati ebbene prendere l'abitudine di misurarsi la frequenza cardiaca a riposo come abbiamo imparato qualche minuto fa e poi applicare carvonen in questo modo quindi anche considerando la formula di Cooper come frequenza cardiaca massima va bene anche così sottolineo carvonen va bene per tutti va bene anche per il principiante quindi anche il principiante può applicare questa metodologia è invece indispensabile per un atleta per una persona allenata prendere in considerazione la formula di carvonen per potersi allenare in maniera corretta allora quel che consiglio io è misurare la frequenza cardiaca a riposo dopodiché applicare carvonen per stimarsi e calcolarsi lo puoi fare anche ora quelli che sono considerati diciamo i limiti di riferimento per individuare i vari intervalli di lavoro di frequenza cardiaca che corrispondono ai vari obiettivi di allenamento che abbiamo visto nel video precedente quindi i valori di riferimento utili possono essere il 65% il 75% l'85% e il 95% della frequenza cardiaca massima se vuoi essere ancora più preciso puoi calcolarti il 65% il 70% il 75% l'80% l'85% e il 90% in modo da avere un quadro più completo dopodiché devi tenere a mente questi valori impostare sul cardiofrequenzimetro una lettura di frequenza cardiaca in termini di battiti al minuto e con questi valori di riferimento ben a mente puoi andare ad allenarti ponendoti i giusti limiti di velocità in funzione della strada che vuoi percorrere riprendiamo la metafora del video precedente quindi in funzione dell'obiettivo che tu vuoi raggiungere vuoi ottenere con l'allenamento che vai a fare è molto importante imparare ad usare il cardiofrequenzimetro in quest'ottica soprattutto per le persone allenate applicare carvone quindi misurati la frequenza cardiaca riposo così è anche hai un parametro per valutare il grado del tuo allenamento ed eventualmente verificare anche se magari esageri un poco e correggere il tiro di conseguenza calcolati i vari paletti i vari limiti di riferimento del 65 75 oppure infittisci il range gli intervalli e poi vai ad allenarti considerando appunto questi valori che ottieni applicando carvonen e non cooper tieni in considerazione questi valori di riferimento e buon allenamento ciao ciao